Ciao bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi, vicini e rumori permettendo, parliamo del wrap up di aprile, quindi tutte le letture che ho fatto nel mese di aprile. Se sentite i rumori, come vi ho appena accennato, sono i sempre cari vicini del piano di sopra che non so che stanno facendo, però hanno deciso di farlo proprio oggi, proprio adesso, nel momento in cui ho questa oretta di tempo per registrare e quindi sentirete probabilmente dei rumori perché due sono le cose, o si stanno ammazzando o stanno smontando casa. Non lo so, non lo so, ma detto questo parliamo delle letture del mese di aprile. Ad aprile ho letto tantissimi libri e fumetti. Tre fumetti di cui un manga, tre seguiti, tre nuovi libri e poi un libro per il gruppo di lettura, il fangirl, legge Tolkien GDL, che si è concluso, si è concluso con la lettura di lui. Il tanto temuto, Silmarillion o Silmarillion, come vogliamo chiamarlo e pronunciarlo. Questo era l'ultimo libro appunto dedicato al mio gruppo di lettura dedicato a Tolkien. C'è un video in cui vi parlo di tutta l'esperienza un anno dopo, perché è stato un gruppo di lettura durato un anno, e io volevo proprio concludere con questo libro, che è un po' un trattato storiografico, un po' una bibbia di Arda della Terra di Mezzo, perché è un libro che nel corso della mia vita da lettrice, avevo iniziato altre tre o quattro volte, non sono mai riuscita ad andare avanti, e secondo me è perché sbagliavo l'approccio. È un libro che di base resta molto complicato, molto complesso, non facile da digerire, non facile da leggere, soprattutto in determinati periodi, bisogna essere molto leggeri e con la testa libera per approcciarsi al Silmarillion, per quel che mi riguarda, e io sbagliavo, secondo me, per quello che riguarda la mia esperienza di lettura, nel volerlo leggere tutto insieme, tutto d'un fiato. Questa volta ho deciso di leggerlo per tutto il mese di aprile, quindi ho iniziato in realtà non proprio i primi giorni di aprile, più o meno dopo la prima settimana, e l'ho finito proprio l'ultimo giorno di aprile, leggendo pian piano queste pagine, che alla fine non sono neanche tantissime, e tra l'altro ho scelto questa volta di leggerlo da questa edizione qui, e le illustrazioni mi hanno aiutato un sacco nella lettura, sono illustrazioni bellissime, le amo infinitamente, sono veramente stupende, e quindi mi hanno aiutato man mano, questa è una delle mie preferite, i colori sono sensazionali, e mi hanno aiutato un sacco. Il Simarillion, inutile che ve lo dica, narra di quelli che sono gli eventi più importanti della Terra di Mezzo, di Arda, di come è nata e di come è andata pian piano a avere i suoi avvenimenti più importanti, tant'è che si parla di nuovo di altri racconti che abbiamo già sentito, come Beren e Luthien, Gondolin, Turin, quindi i figli di Urin, si arriva addirittura a parlare dei tre anelli, e a me è piaciuto, ma continuo a dire che non è propriamente il libro che fa per me l'universo di Tolkien, perché è complesso, e il fatto che sia così tanto complesso, nonostante sia lo stesso, in ugual modo, affascinante, e sensazionale, non me lo fa apprezzare fino in fondo, quindi è stata una lettura molto difficile da portare avanti, nonostante ogni giorno io fossi meravigliata dalla bellezza di ciò che scrive, scriveva Tolkien, quindi bellissimo ma difficilissimo allo stesso tempo, è stata comunque una lettura soddisfacente, sono molto contenta di averlo letto, e di averlo finito, e le mie parti preferite sono state quelle che in parte già conoscevo, quelle dedicate a Melkor, perché comunque è un cattivo che, guardate questa illustrazione, mio Dio, che mi ispira un sacco, e ovviamente quando si arriva alla terza era io sono sempre felice, quindi gli anelli, i portatori dell'anello, mi piace un sacco leggere di ciò che riguarda la fine della terza era, perché è quella che sento a me più vicina. Detto ciò, con questo ho letto praticamente tutti i libri di Tolkien dedicati ad Arda, la terra di mezzo, e magari non quest'anno, l'anno prossimo, quando sarà, ritornerò a leggere Tolkien. Devo un attimo un po' disintossicarmi, perché un anno non è stato facile, perché Tolkien non è facile, anche se mi piace un sacco, però vorrei leggere di Tolkien tutti gli altri suoi libri, quindi quello dedicato ad Arda, Beowulf, quello dedicato al Medieval Fantastico, Il Cacciatore di Draghi, insomma ce ne sono tanti altri, e prima o poi li leggerò sicuramente. Ma passiamo alle altre letture, e parliamo, prima di passare ai libri, che hanno un paio di delusioni, parliamo prima dei fumetti, manga e fumetti, che sono state tre letture bellissime, stupende, meravigliose. Il primo è il manga, ed è Mao. Il quarto volume di Mao, di Rumiko Takahashi, mi è piaciuto un sacco, Mao è un crescendo, perché è il che mi riguarda. La storia di questo dottor Mao, e della ragazzina, che sembra nascondere molto di più dietro di sé, mi ricorda sempre di più Inuyasha, sebbene un po' più horror, un po' più splatter, e mi sta entusiasmando sempre di più, perché ovviamente, man mano che si mantiene la storia, la nostra Rumiko Takahashi, ci sta presentando personaggi secondari, e ci sta presentando molto di più, del passato dei protagonisti, e questo mi piace un sacco. Tutti i manga però, finiscono con dei cliffhanger assurdi, e bisogna aspettare ogni volta due mesi, per andare avanti, e non mi sembra giusto. Comunque, se conoscete Rumiko Takahashi, conoscerete anche i suoi disegni, vedete, ricordano veramente un sacco Inuyasha, e anche la trama, ricorda Inuyasha più di Ramma un mezzo, ovviamente. Comunque, la Takahashi, anche questa volta, non mi sta deludendo, perché sono già prontissima a prendere, il quinto volume, che esce, i primi di giugno. Davvero, sono così contenta, che mi stia piacendo, perché erano, veramente tanti anni, che un manga, non mi prendeva così tanto. Sta succedendo anche con un altro manga, ma ne parleremo nel wrap up di maggio. Se mi seguite su Instagram, già sapete di quale manga sto parlando, perché ho iniziato un manga, da tantissimi amato, finalmente, e mi sta piacendo un sacco. Ma ne parliamo nel wrap up di maggio. Io comunque vi straconsiglio Mao, perché mi sta piacendo da morire. Ma, a parte Mao, ho letto due fumetti, due fumetti di Bao. Bao Publishing mi ha donato questi due fumetti, e io non potevo che essere contenta, contenta, perché uno è il seguito di un fumetto, che ho letto l'anno scorso, e quindi aspettavo questo seguito, e l'altro è un fumetto, che da quando è stato annunciato, sapevo che sarebbe stato una bomba, un fumetto importantissimo. Parliamo prima del seguito, perché è la Belgica, secondo volume, la melodia dei ghiacci, il primo era il canto delle sirene, ve ne ho parlato l'anno scorso. La Belgica di Tony Bruno, il secondo volume, mi è piaciuto molto di più del primo, perché mi ha emozionato molto di più. Nel primo volume noi abbiamo Gin, il protagonista, che si imbarca, non facendolo neanche apposta, verso un viaggio, un viaggio che è realmente, si dito il primo viaggio, praticamente che ha segnato la storia, un viaggio fra i ghiacci, che non sarà facile come viaggio, non sarà facile dall'inizio alla fine. E nel primo appunto abbiamo l'inizio del viaggio, abbiamo la speranza, la voglia di viaggiare, la voglia di conoscere nuovi territori, di scoprirli, perché appunto è la prima volta che si andava in questi luoghi ghiacciati, con una nave alla fine fatta di legno, con un equipaggio giusto, ma che comunque stava attraversando per la prima volta dei territori inesplorati, con magari dei mezzi non adatti. In questo secondo libro c'è proprio la stanchezza del viaggio, c'è quasi la perdita della speranza da parte di Jean, da una parte che non ce la fa più, e tutto l'equipaggio non ce la fa più, sono praticamente dispersi e vorrebbero tornare a casa, e quindi è molto più emozionante vederli in questo stato. E poi mi è piaciuto un sacco perché c'è il racconto da parte di Claire, che è la sua amata, con lei che lo aspetta a casa, di cui non ha notizie, nell'uno dell'altro hanno notizie, e lei si unirà a quello che è uno dei primi gruppi femministi, e una sorta di suffragette, sebbene non ci troviamo in Inghilterra, comunque sono delle sorti di suffragette che vogliono il voto per le donne, vogliono i diritti per le donne, e Claire insieme ad altri personaggi femminili andrà a lottare per questo. E mi è piaciuto un sacco il fatto che la sua storyline si divida fra il voler lottare per le donne e la preoccupazione comunque per il suo uomo. Questo fumetto mi ha ucciso, poi letteralmente, perché accadono delle cose che mi hanno stretto il cuore, mi è dispiaciuto un sacco, io non me l'aspettavo, che ci fossero scene così strappalacrime, e invece, sì, ho pianto. E mi è piaciuto molto, molto di più questo rispetto al primo volume, devo essere sincera, i disegni sono in bianco e nero e si vede che comunque Tony Bruno è stato magistrale nell'andare a informarsi sulle navi, su questi viaggi, tant'è che ci sono anche parte dei suoi studi, quello che ha, insomma, fatto per parlarvi della Belgica, qui c'è l'equipaggio, insomma, si è informato. E poi il fumetto termina con una lettera dolcissima, che ovviamente dovete leggere, poi qui c'è il viaggio fatto. Insomma, la Belgica è veramente un fumetto, la Belgica 2 in particolar modo, un fumetto che non mi aspettavo che mi potesse piacere così tanto. Il secondo fumetto di cui voglio parlare è quello che appunto sapevo sarebbe stata una bomba, una perla rara, ed infatti è stato così. Sto parlando di Pelle Duomo, in questa edizione stupenda di Baupublishing di Hubert e Zanzim. Pelle Duomo è un fumetto attuale, più attuale che mai, nonostante sia ambientato durante il Rinascimento in Italia. La protagonista è quella che vedete in copertina, Bianca, Bianca che è una giovane donna promessa sposa a un giovane uomo che lei non conosce. quest'uomo si chiama Giovanni, lei non lo conosce per niente, eppure dovrà sposarlo, dovrà essere intima con lui, dovrà trascorrere tutto il resto della sua vita con lui. E si vede, le donne della sua famiglia notano quanto Bianca sia a disagio nei confronti di questo matrimonio organizzato, che lei in realtà non vorrebbe portare avanti. ci sono le sue amiche che le danno dei consigli vari, però Bianca vede quanto siano ipocrite, perché magari c'è chi va a secondare tutto ciò che il marito fa, oppure c'è chi va a tradirlo. E Bianca vorrebbe qualcosa di più della sua vita. Cosa accade? Accade che sua zia le rivela un grandissimo segreto, ovvero, cara Bianca, noi possediamo una pelle d'uomo, letteralmente, una pelle d'uomo, che è quella che Bianca indossa qui in copertina, e questo ragazzo che noi ogni volta indossiamo lo chiamiamo Lorenzo. Solo indossando questa sua pelle tu potrai letteralmente entrare nel mondo degli uomini e capirlo. Così Bianca usa Lorenzo per conoscere Giovanni, ma le cose non andranno come lei si aspettava, per niente. E Bianca ha anche un fratello, un fratello che fa parte della chiesa e che è ricco di frustrazione, ho visto tanta frustrazione nel fratello di Bianca, soprattutto nei confronti delle donne. Questo fumetto è ricco di tematiche attuali, identità di genere, scoperta del proprio io e della propria sessualità, omosessualità, la discriminazione, l'arroganza e anche l'ipocrisia di tanti dogmi, perché si parla di tanto in questo momento e anche della libertà di essere se stessi e alla fine, quando arriverete alla fine e vi ritroverete come me, con gli occhi luci davanti a tanta bellezza, vorrete solo dire viva Lorenzo. È stato un fumetto davvero meraviglioso, io non ho altro modo di andarlo a descrivere, è fatto in questo modo, molto colorato, i disegni anche sono molto molto belli, questi sono gli inizi dei capitoli e davvero alla fine potrete solo urlare viva Lorenzo. Vi straconsiglio Pelle Duomo è uno dei fumetti più belli mai letti. E ora passiamo ai libri, passiamo ai libri con tre seguiti e tre libri nuovi, diciamo, e partiamo da un seguito, un seguito che è stata un'enorme delusione, delusione con la D maiuscola. Fra tutte queste letture ci sono appunto due delusioni, anche se questa è la più grande, poi c'è il primo libro di una saga, ma ne parliamo dopo, diciamo che quella è una piccola delusione, forse sbaglio anche a dire delusione, mentre per questo seguito sono delusa e arrabbiata e io mi chiedo perché, semplicemente perché naturalmente sto parlando di lui, il reintocco di Neil Shusterman, mi piange il cuore, mi piange il cuore perché io volevo davvero che questa trilogia distopica mi piacesse, è difficile, è molto difficile che un distopico mi piaccia, che io ne sia attratta, e questa volta non è andata bene perché, allora, Falce, di cui c'è un video dedicato sul canale, mi era piaciocchiato, anzi, mi era piaciuto, perché? Perché alla base di Falce c'è un'idea molto bella, una costruzione di questa idea che gira attorno al controllo sulla morte che è molto bella, è molto emozionante e Falce credo sia un buon libro sotto questo punto di vista, mancava molto da un altro punto di vista, ovvero costruzione del mondo, setting e personaggi soprattutto, i personaggi sono piatti, ma di un piatto un foglio a quattro, questi sono i personaggi per quel che mi riguarda questa trilogia, però Falce era il primo libro, quindi mi sono detta vabbè, il primo libro, il secondo si chiama Thunderhead che è praticamente il fulcro di questo world building, il centro, quindi ci sarà molto del Thunderhead bello, insomma, sono contenta che il secondo sarà sul Thunderhead e poi ci sono altri due libri, ce ne sarà da dire sui personaggi, voglio dire, il primo libro si è focalizzato sull'idea del controllo della morte e della vita delle Falce che vanno appunto a spigolare sotto alcune regole le persone perché appunto non ci sono più malattie, non c'è più morte naturale, non c'è più povertà, è tutto controllato da questo Thunderhead, c'è poi una sorta di religione, bello, ma tell me more please invece no, non mi si dice praticamente più nulla, già il secondo libro non mi era piaciuto quasi per niente perché si chiama Thunderhead ma del Thunderhead c'è il 0,1 del libro ma il primo libro mi era, scusatemi, il secondo libro Thunderhead mi era piaciuto perché c'era l'introduzione del nuovo personaggio che a differenza degli altri aveva un minimo di spessore una roba di due centimetri e perché comunque era finito con un cliffhanger che ti metteva curiosità. il grande problema il grande problema di Thunderhead era che dovevo aspettarmelo che anche il rintocco sarebbe stato uguale perché si capisce che Neil Shusterman non non ce la fa non ce la fa scrivere una trama che abbia senso perché già in Thunderhead c'era un colpo di scena che tu stai lì e dici davvero cioè tu hai fatto questa cosa nel primo libro e adesso fai questa nel secondo come grande colpo di scena e come accade in Thunderhead anche nel rintocco è chiaro è veramente chiaro che Neil Shusterman non sapeva come uscire da tutto quello che aveva buttato nella pentola e quindi è stato deludente allora all'inizio mi stava anche piacendo perché? perché i due protagonisti Rowan e Citra praticamente per metà al libro non ci sono ed è bellissimo io li odio non mi piacciono sono piatti come poche altre cose tra l'altro anche gli altri personaggi che avevano un minimo di spessore e questi altri personaggi secondari che in realtà c'erano anche dal primo libro i maestri giusto per non farvi spoiler sono diventati piatti e quindi vabbè poi c'è stata un'altra cosa che mi ha fatto un po' sorcere il naso perché c'è l'introduzione di un altro personaggio che è appartenente alla comunità lgbtq plus ma secondo me è rappresentato malissimo perché diventa quasi una macchietta e allora io dico va benissimo la rappresentazione ma quando dovete farla in questo modo non fatela perché è terribile e quindi il rintocco mi ha deluso un sacco per non parlare di tutti gli espedienti o sceni per arrivare al finale altrettanto sceno e quindi no il rintocco per me è no così come no a questo punto l'intera teologia perché è falce e un buon libro poi è andato tutto in bacca perché? perché Neil Shusterman non sapeva come uscirne semplicemente è un peccato io sinceramente non leggerò mai più nulla di Neil Shusterman adieu ma parliamo finalmente di due seguiti che mi sono piaciuti e viva alleluia allora il primo è Bone Crier's Dawn in questa edizione stupenda della Fairyloot che ho letto appunto nel mese di aprile perché non vedevo l'ora Bone Crier's Moon è un libro che ho letto l'anno scorso c'è un video dedicato sul canale e mi è piaciuto un sacco io fan story ero convinta convinta è che questa fosse una trilogia convintissima pensavo quindi che questo fosse un libro di mezzo e essendo un libro di mezzo era un libro ottimo fino a tre quarti e dicevo wow veramente bello arrivando poi a tre quarti di libro si stava risolvendo tutto tutte le questioni aperte nel primo lasciate in sospeso si stavano risolvendo e sembrava proprio si arrivasse a un finale ed effettivamente è stato così è una trilogia e io non lo sapevo quindi questo era l'ultimo libro perché man mano che andavo avanti le cose si chiudevano e dicevo ma adesso o fa un grande colpo di scena che poi tutto il terzo libro è bacato su questo oppure non capisco e ci credo che non capisci cretina poi mi sono detta è l'ultimo libro di una duologia e quindi si allora browncriers dawn mi è piaciuto perché mi ha dato tutto ciò che volevo una grande concentrazione sui personaggi femminili che rimangono i miei preferiti il romance nel primo libro mi era piaciuto molto ma avevo il grande desiderio che in questo secondo libro ci si focalizzasse sulle due protagoniste che hanno fra di loro un'amicizia incredibile una delle più belle amicizie femminili di cui abbia mai letto e sull'aspetto magico della mitologia e anche questo ci si concentra tantissimo e mi è piaciuto un sacco ci si rifà in parte alla mitologia greca in parte al folclore francese ed è veramente tutto molto bello in ebbene appunto io avevo questo grande desiderio che le vere proprie protagoniste fossero loro due lasciassimo un po' da parte i maschi e così è stato oltre al fatto che ci sono grandi colpi di scena grande uso della magia e questo mi piace perché è un sistema magico che mi ha affascinato fin dal primo libro io ora non vi voglio dire troppo per evitare gli spoiler quindi vi rimando al video Bone Cryer's Moon in cui vi parlo di questa duologia duologia che purtroppo c'è solo in inglese e non so se verrà tradotta in italiano io però ve la consiglio è un inglese intermedio non troppo difficile comunque come sempre c'è l'estratto gratuito su Amazon e potete leggerlo io sono troppo contenta perché è una duologia fantasy young adult senza troppe pretese che però mi ha tenuto incollata alle pagine e non me l'aspettavo che sarebbe stata così bella sono tanto contenta stessa cosa di Cassie Per Vulture questa volta era effettivamente una trilogia Vulture è il terzo ultimo libro della trilogia di Bexoggan iniziata con Viper continuata con Venom e finalmente abbiamo Vulture io ho iniziato questa trilogia tre anni fa perché la Fairyloot ci diede in una box Viper e io poi ho voluto continuare perché è una trilogia che secondo me dovrebbe avere più successo anche all'estero vedo davvero poche persone che parlano di Viper ed è un peccato e anche in questo caso ve la consiglio l'inglese in questo caso forse è un pelino più difficile di Bone Crier's Moon ma cercate di leggere gli estratti gratuiti più che altro è difficile perché si parla di mari navi combattimenti vari e può risultare in alcuni passaggi complicato però si può fare comunque Vulture anche in questo caso mi ha dato tutto quello che io volevo è stato come un mix fra i primi due libri perché perché Viper è molto concentrato sul mondo reale sui pirati perché di questo si parla pirati corte intrighi di corte dodici isole che dovrebbero unificarsi in realtà sono divise fra quelle a est e quelle a ovest e il secondo libro Venom è invece molto concentrato sulla magia la parte magica Vulture è un insieme perché abbiamo Marianne la protagonista che finalmente va a incanare dentro di sé sia la sua parte di donna umana sia la sua parte di mage perché lei diventa proprio un mago e si vanno poi a prendere tutti i fili che erano stati lasciati sospesi fin dal primo libro addirittura e si chiudono tutte le questioni è un libro una trilogia ricca di violenza avventura azione combattimenti navi viaggi nelle navi mostri creature mitologiche creature del folklore e con una protagonista che a me è piaciuta un sacco io la adoro Marianne perché è reale è proprio un personaggio in cui ci si può rivedere che fa errori che ogni tanto diciamo ha bisogno di due schiaffi però appunto per questo è reale e io la adoro per questo e Viper e Venom e Vulture sono stati veramente una grande scoperta e ve la straconsiglio come trilogia inoltre l'autrice secondo me scrive benissimo perché io sono riuscita a immedesimarmi completamente in lei in questo world building di 12 isole meravigliose ognuna con la propria caratteristica e ho pianto tanto fin dal primo libro con Viper perché non è facile non veniamo diciamo scontati di nessuna violenza o scena triste e difficile c'è veramente tanto che Marianne deve attraversare di difficile ed è veramente molto molto bello ripeto Vulture è stata un'unione tra Viper e Venom quindi tutto ciò che volevo c'è anche in Vulture e mi è piaciuto veramente un sacco quindi tanto contenta di aver letto anche questa trilogia che vi straconsiglio magari se lo trovo vi rimando al video in cui vi ho parlato di Viper il primo libro e in modo da non farvi insomma spoiler su Venom e Vulture ultimi tre libri di cui vi devo parlare l'ultimo di cui parliamo è quello che mi ha un po' deluso e comunque se mi seguite sapete qual è allora un libro che mi è piaciuto molto e non me l'aspettavo sinceramente cioè pensavo mi piacesse ma non così tanto è stato questo scrittori amanti edito dalla Fazzi editore di Lily King uscito di recente appunto in questa bellissima edizione l'ho letto perché mi ispirava il fatto che la protagonista Casey è una scrittrice quindi si parla appunto di questa scrittrice di 30 anni che però deve trovare il suo posto nel mondo lei fa un lavoro che non le piace essenzialmente fa la cameriera vive in un bugicattolo che è l'unico posto che riesce a pagarsi è morta da poco sua madre e da poco si è lasciata anche col suo ex storico quindi la sua vita sembra che stia andando a rotoli e inoltre lei da ben sette anni si porta dietro questa storia che continua a scrivere ma a modi altalenanti mettiamola così non riesce a finire e quindi io mi rivedevo un sacco in Casey perché appunto Trentennel che deve trovare ancora il suo posto nel mondo che scrive che vuole terminare questa storia che comunque ha passato delle esperienze un po' difficoltose e volevo trovare in Casey un po' un personaggio in cui rivedermi ed effettivamente è stato così è un personaggio Casey anche in questo caso reale però una realtà che possiamo davvero toccare con mano la vita di tutti i giorni e l'esperienza che soprattutto quelli della mia età possono capire al meglio quella di Casey la autrice usa uno stile molto diretto anche in questo caso non ci viene scontato nulla cioè andiamo a trovarci davanti a delle scene anche abbastanza forti per quanto riguarda l'introspezione del personaggio che è passata davanti a un lutto a una perdita diversa di quello che sembrava il suo grande amore e comunque si trova davanti a una vita difficile inoltre ha anche dei rapporti molto difficili con suo padre quindi Casey sta vivendo un momento della sua vita in cui tutto sembra andare male e inoltre appunto viviamo la sua vita mentre conosce altri due personaggi due personaggi maschili molto diversi fra di loro uno scrittore molto affermato acclamato con due figli senza una moglie con cui lei inizierà una relazione e un giovane scrittore sai la se io amo questo nome che però sembra un po' scostante sembra un po' come Casey cioè c'è e non c'è non lo fa neanche apposta sai la se è così e quindi Casey va a avere due relazioni e cerca anche in questo caso di comprendere cosa lei voglia davvero e inoltre la cosa che ho amato un sacco è che si vede chiaramente il processo creativo in questo libro quindi sia i pro sia i contro sia i momenti belli sia i momenti brutti soprattutto nel processo creativo nel momento in cui si scrive un libro un romanzo quindi è un aspetto che mi è piaciuto un sacco mi è piaciuto molto il libro dall'inizio alla fine Casey è un personaggio che sapevo che avrei apprezzato infatti è stato così e mi è piaciuto ogni tema trattato e anche il finale è stato molto molto soddisfacente quindi vi straconsiglio scrittori amanti secondo libro di cui voglio parlare e che penso anzi sono convinta essere stata la lettura migliore come libri di questo mese perché metto sullo stesso piano sia Pelle Duomo sia questo libro è il primo libro delle cronache dell'acero e del ciliegio la maschera del no di cui vi ho già parlato in un video in cui però era un review party e ho parlato per Ippocampo la casa editrice che mi ha donato questa copia meravigliosa del periodo Edo il periodo in cui è ambientato appunto questo libro e che dire ci troviamo appunto nel periodo Edo in Giappone XVII secolo e il nostro protagonista è un ragazzino Ichiro Ichiro viene abbandonato in fasce sulle montagne quindi viene cresciuto in una casetta sperduta da un ex samurai e da una donna anziana il samurai gli andrà a insegnare la via della spada la donna la via dell'amore e dell'affetto la sua vita però viene stroncata e Ichiro dovrà improvvisamente lasciare le montagne la natura a un posto tranquillo per arrivare alla città Edo quella che sarà poi un giorno Tokyo Edo quindi è molto più caotica e Ichiro vivrà tante vite per quel che ho visto io a Edo Ichiro è un ragazzo che vediamo crescere fin da quando è un bambino lo vediamo diventare adolescente lo vediamo davvero vivere tantissime vite potrebbe continuare la via della spada però va verso una carriera diversa ad un certo punto ed è proprio a Edo che si fa i suoi primi amici da Ichi e Shin altri personaggi secondari che io ho amato e poi incontrerà quasi per caso Hina Hime la protagonista femminile una ragazza che vive confinata nelle mura della sua casa con una maschera proprio la maschera del no del teatro no perché all'epoca c'erano il teatro del no e il teatro del kabuki anche il teatro sarà un grande tema affrontato nella storia Hina Hime racconta il motivo per cui ha quella maschera e i due cominciano a essere amici fin quando anche qui le cose si complicheranno la storia la storia è bellissima è uno stile di scrittura tra l'altro dell'autrice molto immersivo ti senti completamente immerso a Edo prima ancora fra le montagne fra la natura e poi a Edo ti senti Ichio mentre lo vedi crescere e gioisci e soffri con lui sei sorpreso quando conosci qualcosa di nuovo con lui sia in maniera negativa che in maniera positiva io ho amato dall'inizio dalla prima parola all'ultima questo libro le cose che ho apprezzato sono lo stile dell'autrice e il fatto che si veda quanto lei pur essendo francese abbia studiato e abbia vissuto e amato il Giappone perché lo racconta come se lei fosse giapponese come se avesse addirittura vissuto nel periodo Edo quindi è stata bravissima inoltre è presente una sorta di glossario cioè ogni volta che si va a utilizzare una particolare parola giapponese sotto c'è la traduzione questa è una cosa che io apprezzo sempre un sacco c'è anche la mappa quindi è un libro secondo me completo veramente completo c'è ovviamente il cliffhanger finale nell'epilogo che ti lascia a bocca aperta e vorremmo tutti sapere il francese per andare avanti però udite udite in autunno esce il seguito e io già non vedo l'ora sarà una tetralogia quattro libri e ho da poco scoperto che i primi due sono appunto narrati dal punto di vista di Ciro e gli altri due da Hinaime e quindi io non vedo l'ora perché amo tantissimo entrambi quindi non vedo l'ora di andare avanti io vi straconsiglio la maschera del no libro preferito del mese è uno dei libri più belli dell'anno sicuramente è in generale che io abbia mai letto last but not least ultimo libro che ho letto l'ho letto per il Witchlands GDL naturalmente con la mia book squad che sta andando avanti a breve vi comunicremo la live e quant'altro ho letto ad aprire il primo libro della Witchlands saga di Susan Dennard Truth Witch piccola delusione e sono tanto triste perché io speravo davvero che questo libro mi piacesse un sacco anche perché l'edizione di Oscar Bolt è epica bellissima perfetta come sempre Truth Witch vera strega di cosa parla? Safi è una strega della verità la sua migliore amica la sua sorella di filo Isolt è una strega dei fili e di che parla Truth Witch? guardate non è facile parlare della trama di Truth Witch perché dovresti averla capita ecco cosa che io non ho fatto e allora queste due ragazze vogliono scappare da dove si trovano perché Isolt appartiene a una razza che viene molto discriminata tant'è che ha i tratti asiatici Safi è una nobile ma vuole sfuggire al suo destino essenzialmente questo mi pare di aver capito e le due fanno una marachella che non dovevano fare all'inizio quindi vengono inseguite inseguite in particolare da uno stregone del sangue che è uno di quegli stregoni più visti male perché ha questo potere terribile inoltre questo sistema magico ha la scissione quindi quando si utilizza troppo il potere si viene letteralmente mangiati dallo stesso e uccisi e la storia di queste due ragazze e dello stregone del sangue si andrà a impecciare con tanti altri personaggi fra cui Merrick uno stregone del vento e questo mi è piaciuto cioè l'unico personaggio che mi è piaciuto per ora Merrick la trama la trama io non ve la so dire ve lo giuro mi dispiace perché è stato tutto molto confusionario qual è il problema di Trufflic è un buon primo libro young adult buono diciamo che da uno a dieci siamo alla sufficienza ecco come voto scolastico perché perché è molto confusionario tanto 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 confusionario molto lento molte cose non si capiscono non vengono dette e io non vorrei che non vengano dette mai o che vengano dette all'acqua di rose nei prossimi libri e molte cose davvero non le ho comprese inoltre il grande problema di Trufflic è che manca un grossario uno e due mancano gli spiegoni perché io non sono una grande fan degli spiegoni devono essere comunque fatti bene devono essere realizzati in ottima maniera non me li devi fare appunto come degli spiegoni scolastici ma se tu non mi spieghi quello che sta accadendo il sistema magico il world building il setting io non lo capisco e poi il mondo è vastissimo non mi basta sapere i nomi in giro dove siamo perché questo cioè ho capito solo che c'è questa tregua che dura da vent'anni che sta per finire ma perché per come boh e quindi sarebbe stato un buon libro davvero buon primo libro se ci fossero stati spiegoni e glossario cosa che è assente completamente assente e anche i personaggi sinceramente a parte Merrick con i suoi problemi perché Merrick è un principe ha problemi con la sua sorella problemi per quanto riguarda le rotte commerciali eccetera eccetera gli altri non mi sono piaciuti non dico che siano piatti quanto quali di falce però non hanno questo grande spessore mi dispiace spero che le cose cambino in Wind Witch che sto attualmente leggendo non so quando vedete questo video se l'avrò finito però lo sto leggendo e vedremo come potete capire True Witch mi ha lasciato abbastanza confusa è delusa non è brutto ma non è neanche bello siamo nella via di mezzo ecco sapete quando a scuola dicono è bravo ma non si applica True Witch e mi dispiace comunque ne parleremo in una live dove spero di riuscire a dire qualcosa in più perché davvero sono molto confusa molto anyway queste le mie letture del mese di aprile tanti bei libri tantissimi bei libri e fumetti una grande delusione con il reintocco una piccola delusione con True Witch che comunque mi farà andare avanti con la saga e con il Witchlands GTL ripeto a breve vi diremo tutto per quanto riguarda la live per parlarne insieme fatemi sapere cosa ne pensate di questo wrap up se avete letto questi libri cosa ne pensate se volete leggerli se volete altre informazioni nelle schede video che vi ho menzionato nell'info box tutti i link dei miei social grazie mille se mi seguite anche lì mi sono iscritta anche a TikTok ebbene sì è arrivato quel momento e grazie mille se commenterete se metterete mi piace se siete iscritti al canale davvero grazie davvero un sacco e se utilizzerete i miei link di affiliazione fra cui anche Pumpling oggi ho questa maglietta carinissima di Harry Potter ma c'è tantissimo altro anche Amazon e tutto il resto davvero grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video ciao